magic vincitore è re costa ciao ragazzi bentornati sul canale nel video di oggi andremo a vedere i top e i flop di questa ventiquattresima giornata per le prime sei partite che ci sono state e in più direi che in questa giornata c'è stato un po il ritorno di tanti di tanti giocatori che magari stavamo aspettando di tanti infortunati e anche qualche bonus di talentini o anche ottime prestazioni che magari fino ad ora non avevano fatto bene andremo a vedere tutto questo in un unico video vi dico che non uscirà oggi il video delle scommesse perché vi avevo chiesto 150 like siamo arrivati a 125 quindi per le scommesse ci vedremo con il video sabato sabato vi porto la prossima la cinquesima giornata e prima di cominciare a vedere un po di cose vi ricordo di lasciare un like iscrivervi al canale e vi metto in descrizione il link di one football andiamo a scaricare l'app sia per chi ama fantacalcio ma anche se amate solamente il calcio potete personalizzare un po tutto dentro l'app la squadra del cuore potete metterci la vostra fanta squadra e l'app vi aggiorna quando ci sono novità sui vostri giocatori e in più per il calcio potete vedere highlights dirette delle partite news grosità statistiche cioè un po di tutto invitandovi anche a venire a seguirmi sia su instagram ragazzi che sulla piattaforma viola dove facciamo le live per i fanta consigli altra cosa importante seguitemi su instagram perché lì andrò ad aggiornarvi per quanto riguarda l'evento del 25 marzo per chi ancora non lo sapesse saremo quasi tutti fanta youtuber ci vedremo a roma per fare il calcetto dei youtuber e sarà un evento aperto a tutti quindi ci possiamo incontrare io sarei felicissimo se tanti di voi veniste per anche solamente per conoscerci quindi ci vediamo ci vediamo la stiamo aprendo anche un canale un gruppo telegram un canale telegram vediamo con con fanta col michele per poi aprirlo a tutti youtuber per dare delle indicazioni per chi si vuole organizzare è importante avere delle informazioni faremo così un gruppo o un canale per per darvi supporto allora cominciamo subito empoli napoli una partita che il primo tempo il napoli chiude 0 0 a 2 ma poteva veramente finire con tanti tanti gol in più devo dire qui ci metto solamente i giocatori del napoli perché dell'epoli non 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 riesco a mettere nessuno fra quelli che hanno fatto bene quei i consigliati sono ragazzi top ovviamente qui è fatta lab non potevo modificare nulla quindi per darvi una anche grafica l'ho fatto così consigliate chi ha fatto bene gli sconsigliati chi ha fatto male o simen si è riconfermato ai suoi livelli e secondo me ha fatto un'altra grande prestazione perché anche se non avesse segnato simen è uno che da sempre fastidio in una partita è uno che attacca tutti i palloni c'ha una voglia una fame incredibile a me sta piacendo non solo per i gol che ovviamente sono tantissimi ma proprio per l'atteggio per l'atteggiamento che ha ha voglia di vincere tutte le partite questo per me è una gran cosa ci ho messo kim e di lorenzo kim ci va vicinissimo al gol su calcio d'angolo di lorenzo un'altra grande prestazione mi è piaciuto un sacco e lo bottica sullo bottica ragazzi anche anche se non l'ho detto io sta settimana sui voti di fantacalcio.it ne avrei da dire di cose cioè non perché lo bottica non può prendere quel sette e mezzo perché fa una partita veramente straordinaria però su fantacalcio.it dovrebbero seguire una linea cioè i giocatori che non fanno bonus difficilmente prendono il sette e mezzo e vi faccio subito un esempio lo bottica prende sette e mezzo in empoli napoli mi sta bene ma poi perché in milan atalanta teo hernandez prende sette cioè incredibile cioè vuoi dare il sette e mezzo allo bottica sì però io dai pure a teo fa una prestazione sia fase difensiva ma soprattutto in fase offensiva è devastante cioè il l'autogol di musso e lo causa teo quindi a me non piace l'incoerenza e poi me ne trovo un'altra di incoerenza importante gli sconsigliati mario rui non è che avesse fatto male però poi reagendo in quel modo devo dire che di mario rui pensavo l'avesse superata quella situazione là invece ci son cascato di nuovo è vero che lì non è che fa male però già solo perché tu reagisci in quel modo e provi a prenderlo il rosso e tra gli tra quelli che hanno fatto male ho messo ismaili luperto ma forse perché sono quelli che hanno fatto peggio ancora ma ce n'erano di giocatori nell'empoli che non hanno fatto bene anche perché sono rimasti anche 11 contro 10 e grosse palle gol non ne hanno avute passiamo poi ecco qui ragazzi abbiamo anche preso il risultato esatto per chi mi segue avevo messo 0 a 2 diciamo che settimana finora non è andata benissimo con i risultati però uno l'abbiamo preso qui è uscito un 2 a 1 invece avevo messo 2 a 1 però vi avevo anche detto che il sassuolo mi intrigava io infatti poi sabato ho giocato qualcosa sul sassuolo anzi qui avevo preso che il sassuolo facesse 1 o 2 gol perché avevo giocato i multi gol mentre lato lecce avevo messo pure 1 o 2 gol e non è uscito mentre ho giocato il 2 del sassuolo in una quotona da 100 e poi vi dico cosa ho sbagliato lato lecce ci ho messo solo falcone anzi ci ho messo solo falcone tra quelli qui e in più ci ho messo den perché sto giocatore secondo me il problema è che non gioca cioè che gioca troppo poco lui è un giocatore che i gol li avrebbe potuti fare in questo campionato però è difficile se non hai continuità neanche di prestazioni di presenze fare bene infatti si è visto quando è entrato qualcosa fatto un tiro quel pallone che appoggia lì per colombo che non è bravo a prendere posizione per buttarla dentro questo pallone poi arriva a gabriel strefezza da un metro come fai non far gol a gabriel però però sta settimana glielo possiamo anche perdonare strefezza ha fatto una stagione finora devastante ci può stare ragazzi una partita un po così però veramente quello è un errore grave quindi l'ho messo fra quelli tra i flop poi ci ho messo anche gallo che per me è un giocatore che può far bene però col sassuolo non ha fatto bene mentre lato sassuolo ci ho messo erlich perché dietro pensavo potessero soffrire di più sia erlich che ruanni invece hanno retto hanno fatto hanno fatto bene per anche soprattutto per il loro potenziale hanno fatto stra bene anzi erlich è uno che a me intrigava anche a inizio anno poi anche un po il fatto che ha giocato poco non ha fatto benissimo e poi c'è il nostro torsved che è uno dei più grandi rimpianti ma qui se vi ricordate ve l'ho detto io anche durante l'anno sono convinto che il mio come dire il mio consiglio lì non è sbagliato nel senso ci sono ci sono consigli sbagliate uno dice ho sbagliato siamo qui per cercare di dare una mano a volte ci si prende a volte no ma perché dico che secondo me non è sbagliato perché il giocatore per me è forte cioè torsved è forte di testa è forte sa calciare se devo trovare un neo a torsved è un po lento ecco quello è però se tu hai un giocatore con questo potenziale devi cercare di metterlo in condizione di far bene dionisi invece l'ha messo sempre solo mezzala se lui invece l'avesse fatto giocare magari in 4 2 3 1 dietro la punta secondo me potevamo potevamo essere qui a parlare di un crack però è ovvio che se tu quando lo fai giocare lo fai giocare mezzala ultimamente spesso non è andato a voto fa fatica è ovvio è ovvio che fa fatica devo dire che mi ha stupito anche il fatto che l'abbia nei cambi sia uscito anche fra te però ripeto è un giocatore che magari quest'anno non so quanto giocherà però sono convinto che il potenziale c'è e non credo che il sassuolo che abbia investito 10 milioni di euro per andare a prenderlo permette a dionisi di bruciarlo così ecco questo non ne sono convinto che lui possa esplodere se gli se gli si dà l'opportunità di far bene se si mette nelle condizioni di poter rendere al meglio bologna inter qui ci avevo messo in una due infatti vi avevo anche detto qui si può giocare multigol casa 1-2 multigol trasferta 1-2 magari mi aspettavo che non uscisse questa partita questa scommessa magari perché il bologna non riusciva a timbrare perché un gol l'inter a bologna si presuppone che e invece non è successo devo dire che qui c'è poco da dire il bologna è stato nettamente superiore e c'è una cosa ragazzi che io voglio dire tacciatemi anche per antinterista quello che volete però io in zaghi non lo sopporto cioè tu non puoi andare dopo una partita giocata così male ma così male a dire eh ma se avessimo sbloccato la partita poi è ovvio che gli stessi gli stessi tifosi interisti sotto vari post postati da diversi stati giornalisti che hanno scritto e se mio nonno aveva tre palle era un flipper ma è normale che te lo dicono cioè che vuol dire se sblocco la partita cioè se avessi fatto due gol l'avrei vinta la partita se avessero annullato il gol di orsolini come quello di barrow sarebbe finita 0-0 ma c'è veramente cioè la sua non solo incompetenza ma la sua non professionalità cioè lui non riesce a prendersi le sue responsabilità non riesce a prendersi le sue colpe cioè l'inter quante occasioni da gol ha creato contro il bologna qualcosa qualcosina ma non puoi andare a bologna e prenderti allora andiamo a vedere i consigliati i consigliati i top diciamo che ha fatto bene orsolini un gran gol qualche palla buona lì nel nel secondo tempo orsolini è sempre uno vivo e da quando c'è tiago motta sta facendo la differenza e devo dire che sono contento perché in tanti fanta ad asta l'ho preso perché lo sapete che io l'altro l'anno scorso l'avevo sconsigliato però quest'anno andava talmente tanto pochi crediti che l'ho preso in diversi fanta e mi sta trascinando lui perché magari preso a 10 crediti su 500 al 2 per cento tanta roba e ebbene dell'inter ci ho messo solo nana perché alla fine lui il suo lo ha fatto il suo l'ha fatta se dovessi mettere un altro non dico però chi ha fatto quantomeno meglio degli altri ci metterei gosens e qualcosina qualche tiro è stato un po vivo ecco poi dell'inter c'erano messi alcuni sconsigliati ma ne avremmo di mettere anche altri poi ci metto soriano fosse entrato quest'altro quest'altro gol parlavamo veramente di un giocatore che non segnava da due anni si sblocca nella partita da ex contro la samp e ne aveva fatto un altro di molto molto bello è anche una grande prestazione ecco anche qui se andassimo a vedere i voti cioè il bologna come fa a prendere così pochi sette cavolo batto l'inter cioè non è che il bologna ha vinto 1 a 0 contro l'ultima la penultima in classifica no ha vinto con una che sta lottando per andare in champions quindi fantacalcio.it stasettimana mi ha fatto molto sbarellare ma non ma non solo per i miei giocatori parlo in generale cioè non capisco la linea che hanno cioè io batto l'inter cioè pensateci il napoli ha vinto a empoli 0 a 2 benissimo però guardiamo i voti che prendono quelli del napoli e guardiamo i voti che prendono quelli del bologna che non puoi paragonare le due partite ok vuoi dare dei voti ottimi al napoli perché è una stagione straordinaria perché hanno fatto benissimo a empoli vi ho detto anche al primo tempo potevano fare 6-7 gol però per la difficoltà della partita non gli puoi mettere un 7 orsolini 6 e mezza straordinaria no devi tutti alzarli di mezzo voto quei voti sono troppo bassi troppo bassi almeno a mio modesto parere lato inter per me sono anche troppo alti o vedo tanti 5 e mezzo alcuni 6 io dico ma che partita hanno visto cioè il bologna ha vinto l'inter ha perso una partita importante perché l'inter deve fare i punti per andare in champions e i voti per me sono sono clamorosamente alti con l'inter e bassi con il bologna tra gli sconsigliati ho messo alcuni nomi brozovic mi aspettavo di più danfris è cresciuto un po leggermente nel suo tempo perché fare peggio del primo era anche complicato defray defray ha preso sei cavolo gli lascia tre metri a barro per calciare ok poi quel gol viene annullato magari però c'è ce ne vuole per dare questi voti ragazzi a me devo dire non hanno convinto per niente salernitana monza allora qui io mi aspettavo una partita da gol devo dire che non lo so se l'ho letta male però sicuramente se non è uscito gol che il monza non è riuscito a far gol tanti meriti vanno a ocioa devo dire che la salernitana due portieri forti sepe un buon portiere para anche rigori e poi non ci ho capito manco che cavolo ha detto paolo sosa che lui ha detto in conferenza no non mi piace cambiare portieri guarderò il lavoro settimanale bla 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 doveva giocare sepe perché con lui ha giocato sepe la prima e invece ci ha messo ocioa probabilmente avrà visto ocioa bene in settimana e direi che la scelta è stata azzeccatissima perché ocioa è stato decisivo in tante tante situazioni è un portiere secondo me di alto alto livello poi qui ci hanno messi altri tre della salernitana ma ne avrei potuti aggiungere altri totoc andreva devo dire questa partita non l'avevo giocata 1x2 l'avevo giocata più sui gol sia casa che trasferta e dopo aver visto 10 minuti un quarto d'ora di partita ho visto una salernitana veramente in palla sono andato a giocare sull'1 e sull'1x l'1x addirittura era 1 e 60 per me cioè dopo aver visto i primi i primi minuti in cui Sambia andava a 3000 non per fare polemica voi ditemi voi ditemi come fa Sambia ad avere 6 a fine primo tempo per me è allucinante cioè Sambia aveva fatto un primo tempo straordinario aveva messo non dico assai ma almeno tre palle importanti forse quella più clamorosa di tutte è quella di Piontek di testa che la mena lì sopra ma aveva fatto bene anche in fase difensiva infatti a fine primo tempo ho detto ragazzi scusate ma è normale per voi quel 6 di Sambia fino a fine per me è una cosa imbarazzante Candreva diciamo che spostato centrale ha fatto leggermente bene devo dire che addirittura poteva fare più gol ci è andato vicino in altre occasioni è stato veramente al centro del gioco quindi sette e mezzo meritatissimo culibali culibali se ne è uscito con un gol peccato non aver messo non averlo messo al mantra che ce l'ho come m però ottonali quindi mi son perso sto gol fa un gol veramente importante un gol difficilissimo la mette a giro sul secondo palo tanta tanta roba e poi Sambia ragazzi che per me non può prendere 6 e mezzo Sambia no no sicuramente c'era anche Castanos da menzionare nel Mazzocchi è tornato bene lato Monza ce ne sarebbero tanti da sottolineare qui ho messo Marie perché ieri veramente disastroso Cragno perché sul sul terzo gol veramente non bene non puoi respingere quel modo il tiro di Piontek Donati entra si prende due gialli va via però qui anche lo stesso Carlos Augusto in fase propositiva aveva fatto quell'azione in cui da quella palla lì non riescono a segnare poi lui di tacco tira però quando è passato il Monza a 4 anche lui è andato in bambola perché perde il pallone se non sbaglio sul 3 a 0 anche altre situazioni lette non benissimo Carlos Augusto deve giocare nel 3 4 5 come esterno di centrocampo da terzino fa più fatica soprattutto in fase difensiva per il resto secondo me prossima settimana di Gregorio torna torna al suo posto non che abbia nulla contro Cragno però non lo so ieri un po così qui ci avevo messo un 2 a 0 e vi avevo anche detto mi sentivo un 1 a 2 dello spezia cioè due risultati non sono usciti nessuno dei due diciamo una partita in cui mi aspettavo massimo tre gol ne sono usciti quattro tanto del merito va a balanzolà ma ora ora ne parliamo lato dinese sicuramente mi è piaciuto Pereira che fa quel gol da calcetto da calcetto spero di farne uno a marzo a Roma spero di farne uno in quel modo perché dico da calcetto perché lui stoppa la palla per anticipare vabbè per anticipare Nicolau poteva fare anche altro perché Nicolau ieri non bene tira di punta e fa un gran gol e poi anche anche Beto bene perché lo aveva messo fra le scommesse era da un bel po' che Beto non riusciva a timbrare nel senso che ha fatto un gol però erano da diverse giornate che era con un gol solo e anche Beto il suo l'ha fatto alla fine ci ha portato un buon 10 tra gli sconsigliati dell'udinese ci ho messo Becao Becao ieri sul primo gol di Nzola si fa saltare come dire come come se io dovessi saltare il mio figlio Antonio ecco è un po' è stata un po' quella la facilità con cui Zola ha saltato Becao e vi dicevo lato Spezia ci ho messo Zola e Agudelo c'era anche qualcun altro che ha fatto bene che mi è piaciuto magari anche già si è accorso accorso tanto però questi due secondo me sono stati migliori rispetto rispetto a tutti gli altri Zola onestamente devo dire che in qualche ballottaggio l'ho lasciato fuori in Zola perché non ero neanche sicuro al 100% che partisse dal primo invece è tornato con una con una forza devastante devo dire allo Spezia con Zola è una cosa lo Spezia senza Zola è un'altra e poi l'altra cosa sull'udinese non ci ho messo Lovric ha preso sette e mezzo perché ha fatto sei e mezzo più uno però è determinante con l'errore sul secondo gol dello Spezia cioè lui la ha se non sbaglio Agudelo che lo può prendere e scaraventare per terra per non prendere il giallo non era neanche ammonito per non prendere il giallo gli fai far gol vedi vedi un'udinese diciamo squilibrata fuori fuori posizione ma che te frega del giallo buttalo e ciao ti prendi l'ammunizione ma non prendi gol e per questo non l'ho messo fra i consigliati perché Lovric ha fatto una buona prestazione passiamo all'ultima partita ma vi chiedo i like ecco non vi ho chiesto i like e ora su Milano Atalanta vi faccio vi faccio anche un po' godere ma lasciamo i like mi raccomando perché vi faccio un po' godere perché qui secondo me facendo un po' di confronto con Salernitana Monza anche qui i voti non sono non sono equilibrati mi spiego meglio Leao ieri è vero che ha sbagliato un gol però Leao per me ha fatto una buona prestazione Leao è stato vivo ieri ha fatto ammonire Toloi era lui che partiva aveva messo quel pallone per Giroud dopo pochi secondi magari non è stato forse come dire tanto come dire evidenziata la sua prestazione però secondo me non è una prestazione da sei cioè Piontek si divora almeno tre palle gol forse qualcuno la dimentica ma almeno tre importanti e piglia sei Leao ne sbaglia una e la prestazione ripeto l'assist per Messias l'aveva messo l'assist per Giroud sono stati loro che anche non l'hanno messa la palla se no aveva fatto anche due assist quindi non dico che doveva prendere però il sei e mezzo ci sta è un'altra cosa che vado a evidenziare cioè il Napoli vince 0 a 2 a Empoli 7 7 e mezzo lo bottica il Milan batte l'Atalanta i 7 l'ha preso ciao e l'ha preso De Hernandez cioè capite che ci sono squilibri di voti importanti cioè per me da esterno è così poi non lo so Krunic ieri ha fatto una partita importantissima per me il Milan ha preso tanti mezzi voti meno per me ciao poteva prendere 7 e mezzo ok gli dai 7 è un voto che non discuto ma se do 7 a ciao devo dare 7 e mezzo a Teo cioè Teo per me almeno il mezzo voto in più lo doveva prendere per forza ora non so se magari mi lascio un po come dire condizionare dal fatto che lo avessi io però cavolo cioè il primo gol lo fa fare lui azioni d'attacco c'è sempre lui tante chiusure in difesa ieri è stato bravo anche in fase difensiva ha fatto diverse diagonali in cui ha tolto le castagne dal fuoco al Milan 7 allora cosa devo fare per prendere 7 e mezzo cambio il voto e mi chiamo lo botca dai 7 e mezzo allo botca sì dallo pure a Teo per me troppi voti discordanti tra una partita e un'altra e poi un'altra cosa con tutto il rispetto per l'Empoli però qua c'era l'Atalanta cioè il Milan vince 2 a 0 dominando non facendo fare un tiro in porta perché che io ricordo di megnanne tranne quei piedi non ha preso mezza palla e quindi i voti per me sono bassi cioè sono più d'accordo con la gazzetta che ha alzato tanti voti è giusto partita difficile la domino la vinco 2 a 0 i voti devono essere altri vi dicevo di ciao che per me solo poco poco meno di Teo ci ho messo Messias che sbaglia un gol però poi si riscatta con quel gol veramente bello devo dire che su Messias sono molto contento perché ve l'avevo messo in almeno forse 2-3 video oltre che parlando in live quest'estate ma perché ve lo mettevo diciamo che Messias ha fatto bene già siamo a 4 gol però io lo portavo perché Messias lo facevano andare a 8 crediti 10 crediti crediti cioè eravamo al 2% ragazzi al 2% un giocatore col potenziale di Messias io lo prendo poi anche se Messias vi avesse fatto male il Fanta non ve l'ha fatto perdere lui con quei 10 crediti però per il potenziale che c'ha sto ragazzo sta ragazzi siamo a 31 anni però per il potenziale che c'è era importante prendere infatti io l'ho preso in tantissimi Fanta ma perché a quel prezzo là lo porto a casa e poi ci ho messo Krunic un giocatore che fino ad ora secondo me non ha affatto bene però l'Atalanta ha fatto il partitone anche lui meritava ben altro voto tra gli sconsigliati onestamente del Milan non ho messo nessuno e ne ho messi 3 dell'Atalanta potevano essere anche di più probabilmente anche Coppomainers però sì anzi lo mettiamo lo mettiamo però qui farei un distinguolo cioè nel senso Lukman e Coppomainers prendono mezzo voto in più di Oilund dico perché? cioè Lukman gli è in partita mai visto Coppomainers non è mai entrato in partita cioè Coppomainers è quel giocatore che se gioca da 6 prende o 6,5 o 7 se gioca da 6,5 prende 7 se gioca da 5 prende il 5,5 o 6 cioè non capisco veramente perché ci sono giocatori che hanno quel mezzo voto sempre in più e lo dico anche qualche Coppomainers ce l'ho quindi non è che lo dico perché non ce l'ho al Fanta infatti l'avevo messo anche fra i consigliati dicendo occhio perché tanto anche se perde l'Atalanta quel mezzo voto in più lui lo prende e non vedo il mezzo voto in più di Lukman rispetto a Oilund Oilund neanche ha fatto bene ragazzi però almeno ha lottato poi ha giocato contro un Ciao che è un giocatore che in questo momento è illegale giocare contro di lui perché non ti concede nulla e nel momento in cui gli passa una mosca mal che vada la stende e quantomeno si è fatto vedere ha provato poi una volta c'era Calulu una volta c'era Ciao non gli hanno concesso niente Calulu altro giocatore che da quando l'ho preso al Fanta Late Night il 6 e mezzo l'ha preso in tre partite su tre e dalla prossima andrà a titolare alla fine mi è entrato perché Di Marco non ha giocato quel bel 6 e mezzo devo dire che faccio fatica perché avendo Teo da metter sempre rischiare nel 2 del Milan non è facile però ora quando arrivano le partite più semplici me li butto tutti e due vi dicevo non capisco anche qui perché Luccoman 5 e mezzo e perché Oilund 5 Bocci Oilund 5 mi sta bene perché Ciao se l'hai messo in tasca ma allora io lo dai pure a Luccoman a Coppa Mainers perché allora no su Musso non lo metto ragazzi tanto anzi non lo metto per l'autogol perché quella è un infortunio è come dire una casualità lui si tuffa prende il palo viene addosso e va a gol lo metto sul secondo sul secondo non bene cioè quella palla un portiere attento la fa arrivare lui e mentre lui non esce non so se sbaglio io però secondo me là poteva fare decisamente meglio Musso dei giocatori se ne sarebbero forse pure Zappagosta c'erano altri ragazzi però io ho visto questo abbiamo visto e poi chiudiamo il ritorno in campo di Mignon di Ibra giocatori che per il Milan sono tanta roba occhio da ora in poi al Milan perché da quando sono passati a tre dietro a volte costruiscono meno non è questo il caso in Atalanta perché il Milan poteva fare molti più gol però con questo modulo hanno trovato certezze io questa partita vi avevo detto anzi vedete qua avevo messo 1-2 però vi avevo detto o sta partita finisce 1-0 o 1-2 avevo questi due risultati esatti in mente invece il Milan però vi avevo detto occhio al Milan perché dietro stanno concedendo veramente poco quindi era una partita che se la sbloccasse se la se la avesse sbloccata all'Atalanta poteva anche finire così invece il Milan è stato in partita non ha concesso quasi nulla quindi occhio occhio al girone al girone di ritorno da ore in avanti veramente possono possono far bene e dipende anche tanto da Mignon perché anche ieri no ho visto un Milan non solo attento di più però tante volte no uno anche io stesso magari non ci bada a tante cose però vedevo Mignon quando giocava con i piedi con le poche palle però lui te la dà nel modo giusto magari te la dà con quei piedi la mina fuori la mina fuori poi da quell'azione ti fanno gol ci sono tante piccole cose tante piccole spezzettature che anche io non noto però poi alla fine vanno tutte a incidere in un risultato possono incidere nel momento in cui tu le fai bene piuttosto che male e e quello sono come dice come dice spalletti tante volte i piccoli dettagli che poi ti fanno la differenza va bene ragazzi volevo fare un video di un quarto d'ora è uscito quasi di 35 minuti vi chiedo scusa spero di non avervi annoiato ci vediamo domani con un altro video e buona giornata ciao ragazzi ciao 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 Grazie.